Secondo giorno di manifestazione alla scuola secondaria Rita Levi Montalcini di Sabaudia che fa parte dell'istituto omnicomprensivo Giulio Cesare. Lo scorso anno la dirigente Miriana Zannell aveva messo in evidenza le carenze della struttura che in pratica era un cantiere a cielo aperto con opere annunciate ma è ultimate. Questa volta ad alzare la voce sono gli studenti che per un paio di giorni hanno manifestato in maniera pacifica radunandosi nel prato di fronte alla scuola. Diversi motivi della protesta, dalla palestra inutilizzabile in quanto suddivisa in aule, orario di 7 ore giornaliere per licei e secondo gli studenti non ci sono aule adeguate nel rispetto della legge sulla sicurezza, mancano i laboratori fondamentali per indirizzi tecnici e scarseggia la pulizia delle aule e degli spazi comuni in violazione alle norme igienico-sanitarie. Il disagio più grande è soprattutto le attività all'aperto che non possiamo fare perché mancano strutture per magari calcio, per vari sport. Io faccio il liceo scientifico sportivo e una palestra per esempio è stata occupata dalle classi costruite dentro la palestra senza finestre e senza impianto di ventilazione. Vogliamo risposte certe per il futuro per continuare comunque questa scuola che comunque piace a tutti quanti, questi indirizzi che piacciono a tutti quanti. Noi abbiamo provato la scorsa settimana ad andare sia alle vicepresidi e a parlare anche con i rappresentanti di istituto. Nessuno ci ha voluto ascoltare forse perché a quanto pare hanno i pariocchi e non vedono i disagi numerosi della scuola. Noi per quanto riguarda la manifestazione domani ritorneremo in classe. Daremo tempo una settimana alla preside appunto di cambiarci il nostro orario perché inoltre abbiamo un orario di sette ore ai licei che è una cosa assurda perché soprattutto per i licei sportivi dopo non hanno tempo per andare a fare sport ma anche per la mole di lavoro perché fare sette ore di fila con materie come fisica, chimica, matematica è assolutamente impossibile. Quindi daremo tempo appunto una settimana alla preside per cambiare questo orario e gestire magari meglio i professori. E poi se non ci darà quello per cui noi stiamo combattendo qui oggi ritorneremo a manifestare. Ti aspettavi l'inizio scolastico così difficile? No, anche perché dall'anno scorso che stanno costruendo i campetti appunto e ci hanno detto che entro l'inizio di quest'anno sarebbero stati pronti ma non è stato così e stiamo continuando a non fare palestra appunto allo sportivo dopo mesi che è iniziata la scuola. Noi usciamo relativamente tardi per lo sport che pratichiamo, tutti, perché alcuni non riescono ad andare ad allenamento troppo tardi, usciamo giustamente troppo tardi e non riusciamo ad arrivare in orario ad allenamento. La preside era assente e l'auspicio è che così come lo scorso anno anche questa volta si faccia sentire nei confronti della provincia. Grazie a tutti.